ogni corso che si rispetti finisce per proporre un proprio elenco di libri da studiare da leggere e i corsi migliori invece di proporre un elenco di testi tecnici rimandano direttamente alle opere letterarie dei grandi classici o degli autori contemporanei migliori e anche noi ci cimenteremo presto probabilmente con questi con questi elenchi di testi imprescindibili o consigliati anzi se a questo punto volete già cominciare a dare il vostro contributo sfruttate lo spazio dedicato ai commenti sotto questo video per elencare i vostri titoli o dare qualche suggerimento ma il punto nevralgico e forse doloroso a cui dobbiamo prestare attenzione oggi è questo nemmeno leggendo bene e accuratamente i titoli che decideremo essere veramente imprescindibili saremo certi di poter diventare grandi scrittori diventeremo sicuramente ottimi lettori cresceremo a livello umano intellettivo miglioreremo il nostro bagaglio lesicale soprattutto la nostra percezione del mondo la nostra visione del mondo ma non è detto che la magia della scrittura possa entrare in noi non abbiamo il banale dirselo ma è bene ripensarlo la certezza che leggendo anche migliaia di libri noi impareremo l'arte e forse il mistero della scrittura e allora come si diventa autori la via è sicuramente questa quella di confrontarsi con quella che abbiamo sempre chiamato la tradizione che ci sovrasta che ci precede che poi ci trascina e che alla fine ci trascende ma dentro questo flusso noi saremo destinati a diventare soltanto dei fruitori dei lettori e non sarebbe poco oppure avremo la fortuna la grazia di riuscire a dare il nostro contributo creativo evidentemente se avessi la formula l'algoritmo esatto per sciogliere questo enigma avrei migliaia centinaia di migliaia di discepoli che potrebbero ambire a ragion veduta di diventare i nuovi classici da lasciare i posteri non è così ma di sicuro la strada è questa noi dobbiamo leggere confrontarci con le opere frequentarle ciascuno con i propri ritmi con i propri tempi scanditi anche dal proprio percorso scolastico dal proprio percorso di vita sono molti per esempio gli autori che scoprono magari in tardi età 40 50 60 anni e più un grande classico che finora avevano trascurato oppure che avevano letto male a me viene per esempio l'aneddoto personale di ignazio silone con fontamara mi era capitato di leggerlo durante le scuole medie evidentemente non ero pronto e mi era sembrata una lettura mortalmente noiosa in effetti non ci avevo capito niente tant'è vero che poi la restituzione scolastica di questo impegno mi era costata una delle poche figuracce in italiano in tutta la mia carriera scolastica poi per scrupolo mi era capitato di rileggerlo da grande quando appunto volevo certificare verificare quello che era il mio giudizio su quest'opera visto che l'avevo letto così così presto e mi sono reso conto di non averla assolutamente capita quella che mi era sembrato un'opera terribilmente noiosa sia rivelata poi in età adulta un'opera completamente diversa persino divertente oltre che molto sapida e sapiente e degna assolutamente di restare nel novero di opere grandiose del nostro novecento letterario dunque non sappiamo quale potrà essere il risultato della strada da percorrere ma siamo certi che la strada da percorrere sia questa sia quella di leggere anzitutto e in effetti più che di velleitari corsi di scrittura avremo bisogno di ottimi corsi di lettura in questo percorso di fruizione delle opere la fenomenologia sarà varia a seconda del percorso di ciascuno abbiamo detto ma tendenzialmente possiamo riconoscere una prima frase di apprendistato che di solito è in età più giovanile in cui tendiamo ad imitare gli autori che abbiamo scoperto che ci affascinano e che alla fine lasciano su di noi un'impronta troppo forte rischiamo di diventare dei semplici epigoni dei ripetitori poi dovremmo capire che la nostra ripetizione non solo non serve a noi ma addirittura danneggia il nostro stesso modello perché non fa altro che usurare la sua parola consumare lo stile logorarne l'incanto e così via per cui poi dovremmo passare dall'invitazione a quella che è più profondamente l'emulazione ovvero il cercare di competere con i nostri autori prediletti in parte ricalcandone lo stile lo sguardo la postura esistenziale verso il mondo ma anche differenziandocene in questo modo rendiamo loro omaggio e incominciamo a metterci a cercare la nostra via più personale finché l'alchimia si complica e allora noi mescoliamo diversi autori magari addirittura fraintendiamo qualche autore ne prendiamo una parte rifunzionalizziamo alcuni elementi simbolici stilistici lessicali e qual si voglia o addirittura ci distanziamo con forza persino con fastidio rispetto a determinati autori altri li assumiamo attraverso un equivoco non è detto che la nostra lettura sia filologicamente corretta e non è importante che lo sia ovviamente vedendolo dal punto di vista di chi rielabora come autore insomma in tutto questo grande guazzabuglio a un certo punto ci dovremmo trovare ad avere costruito un fascio composto di fili non nostri ma che alla fine diventano una caratteristica davvero del nostro stile e allora abbiamo cominciamo a conquistare quella che possiamo definire la nostra personalità letteraria ma come si compia questo processo che abbiamo descritto soltanto sommariamente resta alla fine soltanto un bel mistero e ci dovremo tornare su magari anche con esempi più specifici e precisi fatto sta che stiamo fissando alcuni punti importanti nel nostro cammino alla ricerca del genio anzitutto abbiamo scoperto che l'intelligenza comunque la si voglia intendere non basta perché di fronte le scrittura chiamiamo in causa anche la parte più misteriosa e oscura di noi e ci rapportiamo anche con ciò che non conosciamo nell'universo come unica guida comunque abbiamo in realtà le opere stesse con le quali dobbiamo confrontarci assiduamente e profondamente saranno la nostra palestra ma come usciremo da questo da questa collutazione o da questo amorevole avvinghiamento non lo sappiamo sarà questione di fortuna di magia di coincidenze quindi noi non abbiamo nessuna certezza rispetto al risultato verso il quale comunque tendiamo e qui torniamo ancora una volta alla profonda umiltà che ci deve contraddistinguere sentiamo il profondo desiderio il bisogno di lasciare il segno su quella pagina bianca un segno degno di rimanere e non per vanagloria ma anche per omaggio rispetto a chi ci è preceduti per una restituzione d'amore ma dobbiamo essere sempre pronti al fallimento poi se ne abbiamo davvero energia riconosciuto il nostro naufragio non ci resta che ritirarci fuori dalle acque perigliose che ci siamo lasciati alle spalle arrancare sulla sabbia e con molta pazienza rimettersi lì a leggere